Benvenuti alla pillola quotidiana di The Future Of. Oggi parliamo di un piccolo record. In Norvegia, nel mese di marzo, per la prima volta nella storia, sono state vendute più auto elettriche che auto a benzina o a gasolio. È un piccolo record, 52% contro 48%, riguarda un singolo mese. Ha ricevuto sicuramente un boost e una possibilità dall'introduzione della Tesla Model 3, però è un dato di fatto che questo piccolo record norvegese si inquadri in un piano di più ampio respiro. Piano di più ampio respiro perché la Norvegia, prima di tutto, ha introdotto una serie di tasse, quindi agevolazioni fiscali per chi acquista veicoli elettrici e invece maggiore imposizione fiscale perché per chi acquista veicoli inquinanti che fanno sicuramente da traino poi al comportamento delle persone. In particolare, chi acquista nota elettrica in Norvegia non solo paga meno tasse, ma può circolare in autostrada gratuitamente e può anche circolare nelle corsie dedicate agli autobus. È una cosa importante. Questi benefici finiranno nel 2021, è vero, ma questo è un percorso che la Norvegia ha iniziato, adottandosi come obiettivo dal 2025 in poi di vendere sul proprio suolo solo ed esclusivamente veicoli elettrici o comunque veicoli non inquinanti. Ecco che quindi questo è l'inizio di un percorso che è stato già avviato e della dimostrazione che se si vuole si può. Poi certamente mi direte, la Norvegia è un paese con una popolazione abbastanza contenuta, è un paese con una densità di popolazione non elevatissima, è un paese dove le auto elettriche sicuramente servono per fare prevalentemente degli spostamenti all'interno delle città o tra città vicine, quindi non servono per fare grandi distanze in mezzo ai deserti o alle steppe. Però effettivamente da qualche parte bisogna pure iniziare e la dimostrazione che la volontà di fare le cose può portare a buoni risultati ce lo danno ancora una volta i paesi del nord mentre noi siamo ancora qui a chiacchierare su quello che è più corretto fare. Nell'attesa che anche noi italiani magari ci adeguiamo e riusciamo ad avere un po' di visione di lungo termine su queste cose vi auguro una buona serata e buon proseguimento. Grazie a tutti.